Accendiamo una luce perché oggi c'è bisogno di fare chiarezza, questo è un piccolo angolo della storia, perché ripeto, a volte addirittura i tifosi non conoscono la storia della loro squadra, o magari ignorano determinate cose della storia della loro squadra, io ho tra i miei iscritti, lo conoscevo già prima, un bravissimo youtuber a cui faccio pubblicità volentieri perché se lo merita, merita tantissimi iscritti perché è sempre sul pezzo per quanto riguarda la Juventus Woman che è la mia grandissima passione al pari della Juventus degli uomini, sa tutto delle giovanili tornei vari in maniera molto dettagliata tutto quello che succede durante l'anno, credo che sia forse l'unico youtuber che si occupa di questo perché per molti la Juventus è soltanto la prima squadra, mentre io dico sempre un cazzo, la Juventus non è soltanto la prima squadra, è la punta dell'iceberg Juventus, ma al di sotto ci sono tantissime squadre come la Juventus femminile che ha vinto due campionati su due e era in procinto di vincere il terzo che vedremo se finirà, perché sarebbe veramente un torto togliere lo scudetto alle women con 6-9 punti di vantaggio a 6 giornate della fine ad una squadra che non ha mai perso, parla di Juventus under 23, quindi la Juventus che gioca in Lega Pro, parla di primavera, parla di tornei giovanili maschili e femminili, a dimostrazione che quando si dice la Juventus a livello giovanile non è sul pezzo, non è sempre così perché la Juventus l'anno scorso ha fatto benissimo sia con le donne che con gli uomini e quindi il mio amico Fuori Rosa, canale YouTube Fuori Rosa, che segue diciamo sia la prima squadra che il resto di Juventus Football Club, ha messo in rete un video secondo me bellissimo, io conoscevo parte della storia, parte della storia, lui invece ha tirato fuori aneddoti che non conoscevo, ovviamente io non spoilererò niente su questo video, riguarda le coppe europee della Juventus, una frecciatina anche a chi piace il cartone, evidentemente alla Juventus dell'epoca i trofei a Tavorino non piacevano perché avrebbe potuto tranquillamente vi avere un trofeo internazionale in più in bacheca, ma non lo ha fatto, per il racconto dettagliato con foto e spiegazioni punto per punto guardatevi il video di Fuori Rosa, a me è piaciuto moltissimo e credo che piacerà a tutti gli appassionati di storia della Juventus e soprattutto di storia della Juventus nelle coppe europee, un saluto da Juve 65